Signor Presidente Macron, signora Cancelliera Merkel, signora Presidente designata della Commissione Europea, signora Presidente entrante della Banca Centrale, signore e signori, sono davvero molto lieto di essere qui oggi anch'io per ringraziare il Presidente Mario Draghi per il suo impegno straordinario al servizio dell'Europa e per formulare alla Presidente entrante, Christine Lagarde, i migliori auguri ed esprimerle grande fiducia per l'incarico che si appresta a svolgere. La cerimonia di oggi rappresenta anche un'occasione di riflessione. Sono infatti trascorsi ormai venti anni dalla nascita della Banca Centrale Europea e il bilancio che possiamo trarne è certamente positivo. Mario Draghi ha raccolto il testimone da Jean-Claude Trichet in un momento di grande cambiamento, dopo i primi dieci anni di ione monetaria caratterizzati da condizioni economiche relativamente stabili, con una crescita moderata e costante che la Banca ha favorito e accompagnato. Un primo decennio nel quale l'istituzione è riuscita a costruire la sua credibilità intorno all'obiettivo di contenimento all'inflazione, assicurando coerentemente con l'obiettivo prefissato che essa si mantenesse intorno al 2%. Nel 2011, tuttavia, l'impatto della crisi finanziaria imponeva all'Unione e alla Banca, in primo luogo, un cambio di passo. L'asside, infatti, era presto divenuta esistenziale. Sconfiggere la percezione della possibilità, se non del rischio, di dissoluzione dello stesso aerosistema. Una possibilità e un rischio che oggi possiamo considerare sconfitti. Alla crisi dei debiti sovrani, con i suoi effetti su banche e imprese, e più di recente a livello eccessivamente basso dell'inflazione, la Banca ha infatti saputo rispondere con strumenti talvolta innovativi, che sono stati più volte ampiamente dibattuti, rifiutando di configurarsi come un'entità rigidamente limitata da meccanismi predefiniti, quali che siano le situazioni che si presentano, ma dimostrando rispetto ad esse intelligenza e capacità di reazione, senza subirne passivamente le conseguenze, sempre mantenendosi rigorosamente nell'ambito del mandato assegnatole. Mai è venuta meno la consapevolezza dei limiti della politica monetaria e, allo stesso tempo, l'invito oppressante ad agire attraverso altre leve, come la politica fiscale e le riforme strutturali, perché, come il Presidente della Banca ha sovente sottolineato, non è possibile porre sulla politica monetaria un fardello eccessivo. Usciti dalla fase più buia, occorreva che l'Unione mettesse in sicurezza l'economia europea e, soprattutto, ne accompagnasse il recupero definitivo sul piano della crescita e del sostegno all'occupazione. Le risposte sono state importanti e molteplici, prendendo atto della necessità di iniziative da parte di tutte le istituzioni dell'Unione. L'architettura complessiva della moneta unica si è irrobustita. Si sono opportunamente rafforzate le regole comuni relative ai bilanci pubblici. Si è creato il meccanismo di stabilità. Si è posto mano al sistema bancario con la sorveglianza unica, impostando al contempo se il meccanismo di risoluzione delle crisi sia una salvaguardia a livello europeo dei depositi, sebbene resti ancora da completare un loro sistema comune di assicurazione. Mario Draghi, in questi otto anni, è stato autorevolmente al servizio di un'Europa più solida e più inclusiva, interpretando la difesa della moneta unica come una battaglia da condurre con determinazione contro le forze che ne volevano la dissoluzione. Con coraggio, un coraggio razionale, perché sempre sostenuto dall'analisi e dagli approfondimenti che venivano dalla istituzione stessa, dal Consiglio nella sua collegialità, in un contesto che per su natura ha caratterizzato da incertezza nelle reazioni dei singoli e dei mercati. Coraggio associato alla capacità di ascoltare il dissenso, le voci critiche, ma anche di valorizzare il contributo di chi sassi dare visioni consolidate. Oggi possiamo dire che il sistema europeo economico è più solido, l'occupazione è cresciuta ed è mediamente più alta che nel 99. Il sistema bancario è più compatto, l'integrazione fra le economie e quindi la convergenza fra gli Stati membri è elevata, ma soprattutto, e questo rappresenta uno dei più grandi risultati, il sostegno popolare all'euro è tornato ad essere particolarmente alto. L'incontro di oggi è anche un'occasione per riflettere sullo stato di questo grande cantiere che è l'Europa e in particolare su ciò che ancora rimane da fare, in particolare per rafforzare l'eurozona. Non possiamo dimenticare che la competizione con le grandi aree economiche del mondo è divenuta fortissima, che è la dimensione, ancor più che in passato, elemento imprescindibile per poter influenzare il corso degli avvenimenti a tutela della nostra società e dei nostri cittadini. Completare il cantiere europeo diviene, nell'attuale contesto, necessità esistenziale, se l'Unione intende concretamente divenire attore globale. Il 22 febbraio scorso la Università di Bologna ha conferito a Mario Draghi la laurea onoris causa. Vorrei ripetere alcune delle parole della sua Lectio Magistralis. Nel mondo di oggi le interconnessioni tecnologiche, finanziarie e commerciali sono così potenti che solo gli Stati più grandi riescono ad essere indipendenti e sovrani al tempo stesso, e neppure interamente. E aggiungeva, l'Unione europea è la costruzione istituzionale che in molte aree ha permesso agli Stati membri di essere sovrani. È una sovranità condivisa, preferibile a una inesistente. Vorrei fare mie queste affermazioni, perché nell'Unione risiede la tutela della sovranità dei Paesi europei. La quantità e la qualità dei passaggi e degli interventi necessari per far fronte alla nuova condizione internazionale ha bisogno di un ulteriore e responsabile cambio di passo, al quale non può essere strano il Parlamento europeo, espressione dei popoli europei. Dobbiamo tutti aver coraggio. Non credo che sia stato facile per il Presidente Draghi, nel pieno della crisi, affermare, whatever it takes, tutto ciò che è necessario, finché è necessario, per il bene dell'Europa e delle future generazioni. È quel che dobbiamo tutti assolutamente fare. Professor Draghi, caro Mario, come cittadino europeo, desidero dirti grazie.